Ciao sognatori e benvenuti in questo nuovo video ASMR in italiano io sono Elle e oggi ho per voi o per meglio dire per te sognatore e sognatrice che mi stai guardando e ascoltando tanto... relax 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 Oggi in questo video farò con te un unboxing e sono molto 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 contenta di fare questo unboxing, di aprire con te una scatola, una scatola con degli oggetti molto molto kawaii, carini, la scatola in questione è questa, Yume Twins, già la scatola è carinissima e questa scatola mi è stata inviata da Yume Twins, che è un marchio affiliato a Tokyo Treat solo che Yume Twins è una scatola di gadget e ovviamente i giapponesi, arriva direttamente dal Giappone, quindi oggi aprirò con te questa scatola per vedere all'interno cosa c'è, per giunta a questo video, in questo video, parlerò un po' in sussurro, come ora, ma anche in soft spoken, per accontentare un po' tutti, perché? Perché sono qui per il tuo rilassamento, il tuo rilassamento. Ebbene, sognatore e sognatrice, indossa le cuffie o gli auricolari per ascoltare meglio e iniziamo. Per questo video ho cambiato anche inquadratura, ho messo la parete dietro, con i disegni, perché adoro, e beh, ma questo si sa. Sono molto felice di avere qui questa scatola oggi e sono molto felice che il sito me l'abbia inviata. Tuttavia, nell'info box qui giù vi lascio il link al sito. Ma guardate quanto è carina! A parte i colori sono troppo 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 carini, ma poi all'interno appena apri c'è scritto konnichiwa, che in giapponese significa ciao. E tutta la scatola, sia all'esterno che all'interno, è decorata con dei gattini. E c'è scritto anche kawaii, che è proprio l'unica, l'unica parola per descrivere tutto ciò. Kawaii, che per chi non lo sapesse significa carino. La prima cosa che vedo è questa, che è un fascicolo. La scatola che mi è arrivata a me è di febbraio ed è a tema picnic. Picnic, 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 trigger word. E' ne illustrato ciò che troveremo all'interno della scatola. Molto carino e utile più che altro. Siccome è una scatola di febbraio, spiega anche come si festeggia San Valentino in Giappone. Troppo carino. Ah, e parla anche del White Day. Qui c'è una bustuna. E' un bufazzo. però devo aprire perché è sigillato ovviamente. ma guardate che cosa carina. Quanto è morbido. Troppo carino. E' sofficissimo. sicuramente lo utilizzerò in qualche video di suoni. Non dico schillas perché è troppo, troppo, troppo carino e morbido. cioè... cos'è un riccio? sì. si ci chiamiamo il signor pupazzino. Lo mettiamo da parte. Ok. Il signor pupazzino. Per adesso si chiama così. l'ho messo qui. Anche se non si vede. Io non so voi però, per quanto mi riguarda, adoro i video di unboxing e di show and tell in generale. Mi piacciono tantissimo. allora, proseguiamo. Intanto parlo in soft spoke. Oh, qui c'è uno squishy. ed è della Disney. Ah, è della Disney. C'è scritto Disney Tsum Tsum. Quindi suppongo sia una linea della Disney. Ha il papillon e il berrettino. Quindi sarà il paperino. Apriamolo. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Burro. No, troppo carino. Ma la cosa più bella di questo squishy, secondo me, è il profumo. a te piacciono gli squishy? Segnatore, insegnatrice. Fammelo sapere nei commenti. fantastico. E questo era l'oggetto numero due. proseguiamo con il terzo oggetto. Io li prendo così assolutamente random. Porta cibo, suppongo. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente anche perché ricordo che stiamo a tema picnic. Oh. Anche questo è della Disney. della linea dello squishy. Tsum Tsum. Io sinceramente, sincera proprio, non sapevo che ci fosse questa linea, così la devo chiamare, di disegno, di design della Disney. Per chi guarda, vedi, sono dei disegni un po' particolari. Li trovo abbastanza bambineschi. Cioè, ancora di più rispetto agli originali. Sono carini però. Anche se sono abituata al disegno originale della Disney. Eccolo qui, guarda che carino. E credo che all'interno sia vuoto. Sì. Sono veramente delle cose carinissime. Kawaiiですね. Qual è il disegno che ti piace di più? Sì, quindi questo è un portabilanza. E può sempre essere utile. Questo è un evidenziatore. Sì, un evidenziatore. Un evidenziatore arancione. Con due punte. Vediamo come scrive. Questo blocchettino di post-it. Ovviamente lo sto provando sulla parte bianca. Perché sul giallo si vedrebbe bene. E così. Arancione super hyper mega intenso. Lo aggiungerò alla mia immensa lista di colori. Un cucchiaio. No, è carinissimo. Oh vabbè, questo mi piace troppo. Shirokuma. Forse bianco. E infatti. È un orsacchiotto. Più grande rispetto ai cucchiai normali. Non so se si può vedere bene dall'illustrazione. E in effetti è abbastanza grandicello. Vediamo. No vabbè, ma anche proprio. Cioè la confezione. Non lo so, mi piacciono troppo queste cose. C'è questo rosacchettino qui. No, è troppo carino. Quante volte ho detto è troppo carino. Perché quando mi piace una cosa, intendo ripeterla, me ne rendo conto. Poi nell'editing mi faccio le migliorizzate proprio. E comunque è questo il cucchiaio. Devo dire che ha una forma un pochettino bizzarra. La marca comunque sia è Sumikogurashi. Sumikogurashi. È bianco e rosa. Il manico e anche la parte posteriore è tutta rosa chiaro. Però all'interno del cucchiaio invece è bianco. con il Shirokuma, ossia l'orsacchietto bianco. Troppo bello, mi piace troppo. Ecco, qui si vede meglio. Bello. L'ultimo oggetto rimasto. Cosa sarà mai? È un bicchiere. Barra tazza anche, anche se non ha il manico, quindi è un bicchiere. Però io adoro, adoro le tazze. E anche se questo non ha la manica, io lo utilizzerò comunque come se fosse una normale tazza, non proprio come un bicchiere. E cioè, è bellissimo. È della stessa marca del cucchiaio. Quindi c'è l'orsacchiotto bianco. Non solo c'è l'orsacchiotto bianco, ma ci sono anche altri animali. Guarda. No, vabbè. Ed è decorato anche all'interno. Cioè, è curato nei minimi dettagli. Incredibile. Questo è stupendo, però, avrò. Questa diventerà la mia tazza. Barra bicchiere. Per la colazione. È troppo carino. Insieme al cucchiaio. Fondamentalmente mi è piaciuto tutto. Però credo che le cose che utilizzano di più sono assolutamente bicchiere barra tazza. Il cucchiaio. Quindi, sono uno il portapietanze, due l'evidenziatore, tre il cucchiaio, quattro il bicchiere, cinque il squishy, super profumato. E... Sei il pupazzo. Il signor pupazzino. Eccolo qui. Sono uscite sei cose. Sei cose una più carina dell'altro, una più kawaii dell'altro. Qual è stata la cosa che ti piace da di più? E... bene. Ed è proprio con... Il signor pupazzino. Che... Vi saluto. Anzi, ti saluto. Sognatore. Sognatrice. E... Grazie per aver guardato questo video. Spero che questo video e questi suoni vi siano piaciuti. Io e il signor pupazzino vi mandiamo un bacione. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye!